In Edicola troverete le notizie sui tagli alla sanità nel Lazio. Tutti i presidi del San Raffaele dovranno chiudere. Cos'hanno in comune Mauro Moretti, Alfio Marchini e Raffaele Ranucci? Tutti e tre vogliono diventare sindaco di Roma. Tutti e tre sono graditi al re di Roma, Francesco Gheedano Caltagirone. Chi vincerà queste primarie molto particolari, primarie del mattone? Scopritelo col Fatto Quediano in Edicola. Sul fatto di venerdì 14 dicembre il caso dell'Utri. Mercoledì sera nel corso della confusa conferenza stampa di Silvio Berlusconi gli è stato chiesto se avrebbe oppure no candidato il senatore Marcello Dell'Utri ricordiamolo processato a Palermo per concorso esterno infatti di mafia. Berlusconi ha detto no. Dell'Utri ha detto sono sorpreso. so che Berlusconi mi ha promesso che mi candiderà. Bene, Beatrice Borrome ha intervistato Marcello Dell'Utri e si tratta di un'intervista esplosiva. È il caso di dirlo, visto la familiarità di Dell'Utri con alcune abitudini di tipo mafioso. La lettura dell'intervista farà capire il perché Berlusconi e Dell'Utri sono in qualche modo indissolubilmente legati. Ma abbiamo anche con Fabrizio Desposito cercato di capire quanti sono e chi sono gli incandidabili del Popolo delle Libertà personaggi che hanno avuto a che fare con la giustizia e che adesso premono su Berlusconi perché li ricandidi in modo da avere di nuovo l'immunità parlamentare. Questo ed altro sul caso del giorno. Ci vediamo in edicola.